Le coscienze dei giovani studenti sono vive e attive. La manifestazione nazionale di Firenze di sabato scorso ne ha una testimonianza chiara. Migliaia di ragazzi sono scesi in piazza dopo gli sconvolgenti fatti del liceo Michelangelo. La lettera della preside Savino, del Leonardo da Vinci e sui ragazzi è stata contestata dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara e anche dal vicepresidente del senato Marco Centinaio. Arriva un messaggio ai docenti di non politicizzare il proprio ruolo. Ma guardi, sta parlando con uno che quando era a scuola visto e considerato che era della Lega veniva ghettizzato e di conseguenza le parole del sindaco Nardella le condivido e dico a 360 gradi e quindi la cosa che invito gli insegnanti è il simbolo del partito lasciarlo a casa ogni tanto. Il rischio accorpamento degli istituti e il grande timore per il futuro della scuola italiana, i fondi scarsi inseriti nella legge finanziaria potrebbero determinare un ridimensionamento insieme al taglio dell'organico dei dirigenti scolastici la Toscana ha deciso di presentare ricorso alla Corte Costituzionale per impedire questo scenario proprio alla nostra regione, Firenze nello specifico. Ospita la sesta edizione della Fiera Didacta alla Fortezza d'Abbasso un appuntamento per dare input nuovi alla scuola. Io penso che la scuola sia il punto dove creiamo i cittadini di domani dove dobbiamo creare delle persone che amano questo paese, che lo conoscano, che siano accoglienti e che vogliano fare sempre di più quello che hanno fatto quelli che ci hanno preceduto, i signori che ci hanno preceduto e quindi di conseguenza sono convinto che l'importanza della scuola e soprattutto l'importanza degli insegnanti nella scuola sia fondamentale per questo dobbiamo lavorare anche come governo sempre di più per aiutare il mondo della scuola.